Tu sei quello che si è candidato al Senato, vero? Sì, è proprio così. E a giudicare dal tuo discorso non vincerai? No. Ha un passo dal successo e dal grande amore. Scusa, sei un'elettrice di New York? A te sembra che lo sia. Il futuro non ha più importanza. Qualche idea? Ci sto lavorando. Bene, rimettiamo la pista. Ha guardato dietro una tenda che per lei non dovrebbe esistere. Perché ci volete separare? Siamo qui per farvi rispettare il piano. Ti amo. Conto solo questo. Voglio passare la mia vita con te. Lei non lo sa perché non posso stare insieme a Elise. Per questo non me lo può dire. Non lo sa. Matt Damon. Emily Blunt. Che cavolo succede? I guardiani del destino. Lunedì alle 21. Sul 20.